Per me, come dice Adriano, Vessino è il primo che deve andare via, perché Vessino è stato l'unico finora in stagione che ha fatto polemiche, a parte Sanchez, che non le ha fatte pubblicamente ai microfoni, le ha fatte con qualche posto su Instagram, però rientrate subito. Invece Vessino ha fatto proprio un'intervista dove diceva, ragazzi ma non mi mettono, mi impiegano, devo ragionare, allora... Il problema sai qual è? Che magari Vessino c'è in prestito e non riesce a darlo, lo devi vendere. Lo devi vendere, ma poi lui a giugno non gli scala il contratto. Vessino otta tirando da fine stagione per via, cioè ad andare lui dove cazzo vuole lui, però non si fa fermo un altro anno, è due anni che non gioca. Cioè, ripeto, l'unico allenatore che lo stima è Sarri e un altro che lo potrebbe stimare è Spalletti, però Spalletti ha abbondanza a centrocampo con Napoli. Non è che chiede... No, mi dovete prendere Vessino, capito? Ma che cazzo fa questa Vidal? Però, ragazzi, non possiamo pensare proprio perché possono capitare gli infortuni di avere Gagliardini e Vidal e basta a centrocampo. Cioè, ripeto, se frattesi non te lo vuole dare il Sassuolo, riallaccia i rapporti col Cagliari e prendi Nandez. Perché, ripeto, Nandez aspetta solo una chiamata dell'Inter. Nandez aspetta solo una chiamata. Perché tra il Torino e l'Inter, con tutto il rispetto per il Torino, però sono questioni diverse. Solo che, purtroppo, dimostrato interesse per Nandez, il Cagliari non lo faceva partire per meno di 30 milioni. L'Inter a quelle cifre non ci sta, cioè, non ci sta per Nandez, ma è giusto. E Nandez, ma neanche per, penso, 25. L'Inter, è logico, se deve fare un obbligo, un diritto di riscatto per quelle cifre altissime, tipo dai 25 in su, e lo fa per frattesi. Cioè, oggi il preferito dell'Inter è frattesi. Perché col Cagliari, perché? Possibili anche il mio. Sì. Mi piace. Ah, certo, certo. Certo, perché frattesi è più giovane, perché frattesi è italiano, perché frattesi quest'anno sta dimostrando qualcosa di più. È una mezzala pura. Cioè, nel gioco di Isaghi lo vedo giusto, giusto, giusto. Perché frattesi ha ampi margini di miglioramento, mentre Nandez sta facendo, quello che faceva vedere al Boga l'ha già fatto vedere al Cagliari. All'Inter può dare quelle robe lì, che ripeto, solo di un ottimo mestieriante che recupera palla, che ti dà la spinta in avanti, che ti dà garra a centrocampo, che ti può anche segnare, ti può anche migliorare. Ma non aspettatevi che Nandez sia Eriksen, logicamente. Però, ripeto, a quell'età non puoi chiedere Cagliari 30 milioni all'Inter e prenderla per il naso, quando l'Inter ti ha dato 40 milioni per barella, 45. Se il Cagliari dice, va bene, Inter, Nandez, lo volete ancora, vi veniamo incontro, allora Nandez può avere un futuro all'Inter. Se no, ragazzi, si lavora di fantasia. Cioè, se Sensi non trova l'accordo con la Samp, Sensi se potesse scegliere, tornerebbe al Sassuolo, se deve giocare. Perché è la sua casa. Lui è sempre stato bene al Sassuolo, sa che se va lì ritrova un ambiente che già conosce, un ambiente che gli dà fiducia. Non sappiamo se davvero c'è Mancini dietro la scelta di Sensi di trovare una squadra dove avere minuti nelle gambe, però effettivamente è la cosa migliore per Sensi, perché è un fatto mentale quello di Sensi, più che fisico ormai. Quindi, probabilmente, casomai, va la Samp, però, ripeto, la Samp deve pagare lo stipendio a Sensi, se no l'Inter giustamente dice non me lo tolgo dalla rosa, soprattutto stasera dopo che ha fatto il gol decisivo. Quindi, stiamo a vedere. Uno può dire, ma oltre a Nandez e a Frattesi ci sono altri giocatori? Sì, l'Inter potrebbe prendere per dire, proprio succede un problema, c'è maggiore dello Spezia, un altro che farebbe carte falsa per venire a... Lo Spezia ha un mercato bloccato, non farò uscire nessuno. Però lo Spezia ha un mercato bloccato, quindi lo Spezia non te lo dà, esatto. Allora uno dice, sì, allora puoi prendere... L'Inter poteva fare il discorso Vecino-Villard, poi la Roma però voleva Sergio Oliveira e ha dato via Villar e quindi l'Inter non ha potuto fare nulla. Puoi dare via Vecino e cosa fai con la Lazio? Puoi fare uno scambio, ma chi ti dà la Lazio? Cioè, non è facile, non è facile. È logico che, come ha detto Marotta prima della partita, tanti, tanti si propongono, ma l'Inter poi è Inzaghi che casomai chiede quello o quell'altro giocatore dal benestare, ma soprattutto è la dirigenza che, visti i successi, visto il buon lavoro che sta attuando, ha, non dico l'ultima parola perché l'ultima parola aspetta Zang, ma l'ultima parola sportiva è quella di Marotta, è lui che gestisce, come l'abbiamo visto per Spinazzola, se ve lo ricordate, con Politano, Ausilio, Ausilio aveva preso l'iniziativa di fare lo scambio Politano-Spinazzola, Marotta l'ha bloccato quando era tutto fatto. Quindi voglio dire, Marotta ha un debole per i giocatori che conoscono il campionato italiano, per i giocatori italiani, perché Marotta pensa che comunque sia far crescere un giovane affermato, come per dire, vi portiamo l'esempio di Frattesi, può ripercorrere le orme di Barella, non subito, perché non bisogna pensare che arriva Frattesi e diventa il titolare dell'Inter, no, Frattesi si accomoda in panchina, però quando c'è da far rifiatare Barella o qualcun altro, Frattesi può essere quello che, casomai, piano piano scala le gerarchie della prima sostituzione, poi può diventare un titolare forse in futuro, ma non so se riesco a far capire il mio pensiero. Correa con che formula l'hanno preso? L'hanno preso con una sorta di vincolo che li obbliga al riscatto, che è scattato proprio recentemente, e quindi con il girone di ritorno è scattato. Con la presenza del girone di ritorno sta da pagare. Un aiuto serve, io non dico due giocatori, ma almeno un centrocampista serve. Poi torniamo al solito discorso che questi rincalzi, raga, sono all'ultimo giro di Boa, devono cambiare, tutti dietro devono cambiare, quelli dietro nelle gerarchie. Vessino, lo stesso Sensi, Puroppo, Kolarov, non hai un centrale effettivo di ruolo. L'Inter non sa ancora con la pandemia, la Serie A, gli incassi, eccetera, eccetera, il flusso di cassa, non può rischiare. L'obiettivo è andare sui meno 100 milioni a bilancio 2022. A quel punto devi andare su profili low cost. E dove vai a finire? Dove vai a finire? Su un nome che ho già... Bravo. Oh, bravo. Con questa posso chiederla live. Vai a finire sui profili che tu, casomai, prendi, come il famoso Tommaso Rocchi, per dire, ti prendi Caicedo, lo chiedi al Gero e dici, scusate, lo utilizzate, ce lo potete dare a noi? Che Simone lo richiede. Caicedo fa sì sì, lasciatemi partire, casomai lo prendi davvero a una bazzecola. Ma aspettando il ritorno di Correa, perché invece, ripeto, il Sassuolo, Scamacca, non te lo dà. Diego Costa Svincolato. Cioè, Diego Costa Svincolato, ma, Sandro, Diego Costa, casomai accetta la squadra che gli dà la titolarità. L'Inter offre il progetto in cui ti dice, guarda, sei il terzo barra quarto attaccato. Ti giochi le tue chance, ma parti come riserva. Si dice Salernitana. Correa ancora oggi, nonostante abbia, ripeto, tecnicamente sia fortissimo, però è difficilmente collocabile. Non riesce a trovare quella continuità, non riesce a trovare quella posizione. Sanchez si sta ritagliando il suo spazio. Alla fine c'è ragione lui. Alla fine è quello che sta facendo. Le sto scrivendo proprio così. I campioni sono così, amico. Esatto. Io vi faccio un altro nome che è scadenza. Che l'Inter potrebbe, tra virgolette, strappare. Cioè, un Kramaric che gioca in Germania, che è svincolato a giugno. E l'Inter può forzare, però ripeto, calcolando, e noi non smetteremmo mai di dirlo, che Marotta preferisce sempre giocatori che conoscono il campionato, che non hanno bisogno di ambientamento, che rendono. Li prendi e rendono subito. A maggior ragione, se l'allenatore li conosce, è ancora meglio. Ora, sarebbe troppo bello avere Luisa Alberto gratis con uno scambio con Vecino. Non credo proprio che succederà. Durissima. Esatto. Però, ecco, casomai un Caicedo o un... Non lo so io chi puoi andare a prendere. Puoi andare dalla Samp e gli dici Ok, ti do senso e mi dai Quagliarella? Mi fai sei mesi con Quagliarella. Mi fai sei mesi con Quagliarella, che è in fase ormai calante alla Samp. Tanto la Samp gioca con Gabbiadini. Alla fine la Samp ti potrebbe dare anche Quagliarella. Ripeto, eh. Sono ipotesi che sto facendo io sulle idee che secondo me la dirigenza può avere, perché più di quello non ci puoi andare. No, adesso a gennaio non puoi. Ragazzi, abbiamo le mani legate su questo. Ti vado a scavare al posto di Correa. Non è da escludere, ma non per Correa. Correa lo devi tenere. Correa a giugno o lo vendi? Lo vendi, però cosa fai? Lo vendi... Chi te lo accetta a 30 milioni? Soprattutto se non fa una stagione continuativa. Esatto. Correa deve essere in vetrina per venderlo. Quindi l'Inter farà di tutto, soprattutto Enzaghi. Cercherà in tutte le maniere di far rendere Correa. Correa, che ripeto, ha grandi numeri, ma non riesce di noi, casomai. Il prossimo anno, casomai Correa c'ha l'exploit, perché non si può mai sapere. Sanchez quest'anno sta facendo molto meglio dell'anno scorso, dove ha fatto delle partite decisive, che era sempre rotto, però a Parma, mi ricordo che vincemmo su una sua grande gara. Sanchez è uno di quei giocatori che anche a partita in corsa è decisivo. Correa in questo momento, a parte Verona, dove è entrato in campo la prima partita con l'Inter, è stato decisivo. Quindi Dybala al posto di Sanchez a giugno, quello non si può mai escludere. Perché, ripeto, Sanchez guadagna più di 7 milioni e se tu vai a prendere Dybala, fai diciamo uno switch allo stesso stipendio quasi, diciamo. Quindi ci può stare. Scamacca al posto di Correa, come dice Simone, è molto difficile, perché se Correa resta all'Inter e tu vuoi prendere Scamacca, devi fare uno sforzo. La coperta è corta, a quel punto, ripeto, secondo me l'Inter penserebbe a tenersi Perisic e a non prendere Kostic. Poi raga, io la dico brutta e Luigi si incazza su sta roba, ma se arriva, mi si perde la faccia, vedi, se arriva Dybala, io non sono così convinto che resti Lautaro. Poi, questa è la mia idea, non è nulla di più. Però a quel punto, rilancio la provocazione, potrebbe arrivare magari domani un attacco con Dybala. No, allora, io ripeto, Simone fa questa ipotesi che poi nel calcio ci sta tutto sempre, però io a quel punto, se purtroppo sono costretto a tenermi Correa, se riesco a convincere Dybala o Lautaro, il sacrificato viene da sé che è Zeko. Però ti fa la quinta punta di giocare in cinque, cioè sai che fa l'ultimo anno, non gioca più e poi finisce la carriera. Esatto, se Zeko accetta, allora tu avresti un parco attaccanti davvero forte. Allora sì, sono d'accordo. Dybala, Lautaro, Scamacca sono i titolari, Correa e Zeko sono le riserve. Sanchez è in uscita, recuperi i soldi del suo ingaggio, lo dai a Dybala. Sanchez è in uscita, recuperi i soldi dell'ingaggio. Il fatto è che hai chiuso. Però Zeko deve accettare queste ipotesi, se no Zeko, a quel punto te ti puoi tenere perso. Ripeto, comunque se fai Dybala, Scamacca o Dybala-Vlauch, se è un OBF, è molto complicato, però mai dire mai, a quel punto non penso che riesci a fare Kostic o Gosens sulla sinistra. Ti tieni Perisic, rinnovi Brozovic, come ormai si aspetta l'ufficialità, a destra ti tieni Danfris e Darmian. Cioè, il resto lo lasci così, ragazzi. E voi mi dite, ma al centrocampo fai frattesi. Se rimane così, va via Vidal, forse riesci a strappare Nandez, ma ripeto, ne perdi tre e ne metti due. Cioè, la coperta rimane corta, cioè non è che abbiamo tante chance. Ripeto, poi si può anche ragionare sul fatto che, allora, incominci a perdere Sanchez, incominci a perdere Vidali, incominci Vessino, incominci a perdere quelli. Sì, è vero, metti Dybala, metti quello, metti quell'altro, ma non hai trovato una soluzione per Perisic a sinistra che incomincia ad essere vecchiotto. Sulla destra Darmian ha i suoi anni, D'Ambrosio avrà un anno in più, Ranocchi avrà un anno in più. È vero, forse c'è Ginter a zero. Eh, anche lì, però. Forse c'è Ginter a zero. Però probabilmente ti tiri fuori dalla corsa per Bremer. Perché se spendi 30 milioni per Correa, spendi 8 milioni e più per Dybala all'anno d'ingaggio, cerchi di prendere Scamacca a 40, cerchi di prendere Frattesi a 25-30. Cioè, non è che puoi pensare di prendere Costic a 20 o pensi di prendere Bremer a 30. Cioè, diventa una spesa generale, soprattutto in epoca di pandemia, con ancora Enrico Avea, molto onerosa. Allora, come dice Simone, ti tocca vendere De Vrij, ti devi liberare di tutti gli esuberi di cui abbiamo fatto i nomi. E non lo so, poi. Non lo so. È vero, ma dobbiamo sempre ragionare che adesso Sanchez è il momento suo migliore. Ma ricordiamoci sempre che gli investimenti il calcio non perdona. Nel senso che se poi non ti porti avanti, ti ricordi l'Inter del triplete. Se tu non investi, tu avvi dei fenomeni, non hai fatto gli investimenti giusti, non hai rinnovato quando potevi e dovevi rinnovare, hai avuto 10 anni di oblio. Allora, ragazzi, ti ripeto. Oggi è la stessa condizione. Sanchez, ragazzi, a 32-33, non possiamo pensare di costruire l'anno prossimo il prossimo biennio-triennio su Sanchez, per quanto sia un giocatore per il quale io stravedo e strepitoso. Ma come fai? È un rischio. Ci sono delle situazioni, ragazzi, che certe volte i giocatori a zero possono essere degli affari clamorosi, come c'è successo con De Vrij, o cambiazzo se torniamo indietro nel tempo, ma possono essere anche delle zavorre pesanti, quindi, tipo per dire, Godin, volente o nolente, ha avuto ragione Conte l'anno che ha deciso di far diventare titolare bastoni e di non puntare più su Godin. Se noi avessimo continuato, per quanto Godin piacesse a tutti, però ci sono, ripeto, noi guardiamo all'allenatore, guardiamo alla società, ma c'è uno staff tecnico che ti analizza ogni giorno lo stato di forma, i muscoli, la resistenza, il deterioramento di tutto, e quindi possono analizzare quando, secondo loro, avrai la fase calante o il picco di forma. Cioè, è logico che, ripeto, Perisic, Sanchez, Vidal, Vecino, sono giocatori che ormai possono solo scendere, non possono migliorare, cioè, non possono avere un picco, cioè, possono solo andare giù, serve oculatezza, serve ragionare, e queste sono scelte, ripeto, non possiamo essere noi a dirvi se davvero faranno, prenderanno quello o quell'altro, sono scelte che deve fare l'Inter per dire, quando parliamo di De Vrij, De Vrij oggi c'è ancora un mercato, lo puoi ancora vendere a 25, 30 milioni, 40 se si scatena un'asta, ma è difficile. Tu devi cercare di prendere un buon sostituto, ed era Bremer, fin dall'anno scorso l'Inter segue Bremer, il fatto è che Bremer sta esplodendo, e quindi le richieste partono da 20, 25, 30 anche lì, è logico che se l'Inter, a quel punto, vende De Vrij a 30, a 25, diciamo, e Bremer costa 30, e ti sei giocato tutto il budget che hai fatto con De Vrij, ci sta, eh, ci sta, però, ripeto, sono ragionamenti che deve fare la società, perché potrebbe essere un altro ragionamento, dire, va bene, prendo, perdo De Vrij, incasso 30 milioni, prendo Ginter a zero, e quei 30 milioni li voglio mettere nel mio budget per l'attaccante, o per il centrocampista, cioè, sono tutti ragionamenti che deve fare l'Inter, che ad oggi nessuno sa, nessuno sa, è logico, se voi mi dite, Bremer è attenzionato dall'Inter, sì, Ginter, sì, Frattesi, sì, Scamacca, sì, Vlaovic, c'è anche l'Inter, cioè, sono tutti nel mirino, come ha detto Marotta, ha detto la verità, poi, tutti questi non li puoi prendere, non li puoi prendere, puoi prendere solo qualcuno, alcuni, sono manovre di disturbo, tipo, Di Bala, Di Bala, fa comodo al procuratore di Di Bala, dire che l'Inter lo vuole, perché la Juve, sapendo che Di Bala, può andare alla sua cerrima nemica, casomai gli dice, va bene Di Bala, dai, va bene, dai, ti diamo 10 milioni, vaffanculo, dai, tieni, firma, no? a quel punto l'Inter sa che la Juve, per cinque anni ha rinnovato Di Bala, 10 milioni, la Juve non va più su Vlauic, casomai la Juve, dice, a questo punto non possiamo, le cifre di Vlauic sono troppe alte, perché vogliono 18 milioni alla firma ai procuratori, vogliono 70 milioni a Firenze, lui vuole 6, 7, 8 milioni, vaffanculo, prendo i cardi dal Paris Saint Germain, capito quello che vi voglio dire? Il cunco ci aggiorna, che noi non stiamo vedendo, slitta il passaggio di Sensi, visto l'infortunio di Correa, l'Inter potrebbe fare un ragionamento, questo mi è sempre rimasto in testa, sul fatto che Perisic è l'attaccante barra esterno in più, per questo l'Inter ha dato Satriano via, e quindi Sensi, tra virgolette, è bloccato ora, però secondo me l'Inter... La pratica di farlo giocare dietro la punta può essere, beh, se non hai soldi di necessità virtù, giochi così, però... Esatto. Vediamo prima cosa c'ha. Vediamo prima cosa c'ha, e poi dopo ci raccomandiamo. Cosa c'è Correa. E poi vediamo il fatto su Sensi, perché Sensi comunque sia ragazzi, ve lo ripeto, tanti giocatori quest'anno, vogliono mettersi in luce, perché c'è da giocare un mondiale, tra virgolette un mondiale, finché non si sa se l'Italia sarà ai mondiali, Scamacca, Frattesi, Sensi, vogliono far vedere a Mancini, che possono essere i titolari della Nazionale, o entrare nel gruppo. Assolutamente sì, su Sanchez c'è il discorso, un anno di contratto sì, ma lui può rimanere, tranquillamente, magari escono Vessino, esce Vidal, esce un altro, va bene. C'è una clausola che permette di farlo liberare, per 4 milioni di buona uscita, ma per regalargli 4 milioni, io personalmente Simone me lo tengo, ci faccio l'ultimo anno, e gioco ancora con lui. Se sta bene lo tengo. Sanchez, sì sì, finisci. E piuttosto prendo una prima punta, cioè prendo Scamacca, non vado su Di Bala, prendo Vlaovic, investo tutti i soldi che ho, prendo Vlaovic, prendo Vlaovic, è un centrocampista. Se poi esce De Vrij, prendo un difensore centrale a zero, Luis Felipe, piuttosto che Ginter, e investo su Bremer. Cioè, se ho soldi, devo prendere il futuro dell'Inter, secondo me. Non posso più permettermi di prendere un altro Dzeko. Quindi un attaccante e un centrocampista. Se l'Inter dice, Vlaovic, noi ti offriamo 4 milioni, no? E la Juve gliene offre 7, faccio un esempio, anche se a Vlaovic, casomai, c'è una simpatia più per l'Inter, è bravo. Poi, I am Wappamen, dice il giusto. In più, l'Inter con la Fiorentina non è che abbia questi rapporti, però, ripeto, i rapporti poi lasciano il tempo che trovano, perché se poi la Fiorentina chiede 70 e te gli dai 70, loro accettano. Perché, per dire, non credo che Commisso fosse felice di dare chiesa alla Juventus, però, se la Juve ti assicura quelle cifre lì, anche se in 114 rate, glielo dai. perché se il giocatore ti dice che vuole andare lì, alla fine sei costretto a trovare un accordo. Come Barella a Giulini gli ha detto che voleva solo l'Inter e non la Roma, anche se Giulini voleva vendere Barella alla Roma, alla fine devi trovare l'accordo. Vediamo come si evolve la situazione oggi con l'infortunio di Correa, vediamo un po' se l'Inter metterà una toppa, sembra di no, perché dicono che Sensi resta secco, adesso devono capire prima cosa c'è. Aspettiamo due o tre giorni e poi si vede, non si può parlarne adesso, tanto non sappiamo cosa, anche la società farà lo stesso ragionamento.